Buona giornata a tutti. Carlo ha già anticipato il titolo del mio intervento. Mi devo da subito scusare perché visto il tempo a disposizione probabilmente non riuscirò a trattare in maniera adeguata tutti gli argomenti che sono contemplati appunto nel mio intervento. In prima battuta preferisco concentrarmi sulla prima parte cioè sui patriarchi monumentali di Pero dell'Emilia Romagna che sono la materia anche della quale mi occupo qui in istituto e che forse è la tematica che meno frequentemente può essere frequentata da un esterno, da una persona che non segue direttamente questi lavori. Competenza dell'istituto sono anche i beni naturali e all'interno dei beni naturali quindi gli alberi monumentali. Visto il tema di oggi parleremo di peri monumentali visti come elementi del patrimonio naturale e come elementi del paesaggio. Le forme selvatiche di pero contribuiscono alla determinazione del paesaggio delle aree naturali e seminaturali insieme a tante altre specie naturalmente nelle loro forme spontanee. Le varietà coltivate hanno condizionato invece il paesaggio rurale in tutte le epoche con modalità e forme diverse in funzione naturalmente delle varietà che di volta in volta venivano coltivate e delle tecniche di coltivazione che si sono molto evolute. Un terzo contributo al paesaggio che possiamo riscontrare della pianta del pero è quello dell'uso di questa pianta nei giardini. Questa pianta è sempre stata fin dall'antichità una protagonista nei giardini in quanto gode di tante virtù. Il professor San Savini ci ha già fatto vedere la varietà incredibile dei tipi di frutti in funzione delle diverse varietà e ci ha parlato di varietà antiche. Quindi sono frutti che erano disponibili già nel passato. La pianta stessa gode di una grande capacità di adattamento nonché di una grande resistenza alle potature per cui nei giardini è sempre stato un elemento privilegiato perché era molto facilmente adattabile alle condizioni volute dal giardiniere e poteva anche adattarsi a forme di allevamento originali e strane in funzione appunto delle tecniche di potatura che venivano applicate. E poi la pianta di pero gode di notevoli qualità estetiche a partire dalla fioritura. Qui ho riportato un esempio di fiori di pero della varietà coscia. È una fioritura molto precoce e quindi diciamo comincia a dare una nota di colore ad un ambiente che sta uscendo dal freddo invernale. È una fioritura molto delicata e candida che dà un apporto estetico notevole. E così i frutti. Io in questo caso ho riportato un frutto della varietà Truvela ma il professor San Savini ci ha fatto vedere una quantità incredibile di forme e colori possibili per i frutti di pero e così per il fogliame. E non ultima la veste autunnale del pero che acquista nelle diverse varietà delle colorazioni molto belle variabili dalle tonalità del giallo al rosso. Solo per fare un paio di esempi particolarmente significativi volevo citare la presenza di piante di pero già ricordata nell'Odissea da Omero che parla di piante di pero contenute nei giardini di Alcinoire del Fiaci ma avvicinandosi un attimo alla nostra epoca ma rimanendo sempre nella storia Un altro esempio molto importante è quello della presenza di coltivazioni di pero all'interno dei giardini di Versailles all'epoca del Re Sole. Il Re Sole si sa che il Re Sole era molto ghiotto di questo frutto questo è uno dei motivi per cui il giardiniere di corte Jean Baptiste della Quintinie di cui qui è rappresentata una statua aveva selezionato e coltivato nei giardini diverse decine di varietà di pero per offrire al Re Sole una produzione continua e sempre diversificata in base alla scalarità di maturazione di tutte le varietà coltivate e poi non bisogna scordarsi anche un altro particolare il pero il frutto del pero in quanto frutto molto deperibile era in passato considerato uno status symbol praticamente era un simbolo di prestigio di lusso e quindi non poteva non piacere al Re Sole naturalmente Tornando un attimo al discorso del paesaggio rurale il professor San Savini ci ha già illustrato come l'avanzare della frutticoltura industriale ha cambiato le forme di coltivazione fino a un secolo fa o fino alla prima parte del secolo scorso i peri come le altre piante da frutto venivano coltivate in situazioni diciamo appunto non industrializzate singole piante di diverse varietà mescolate con piante di altre specie con anche piante orticole creavano dei contesti produttivi spesso ad uso domestico o per una produzione finalizzata ad una distribuzione locale quindi di piccole dimensioni lo sviluppo della frutticoltura industriale soprattutto a partire dal secondo dopoguerra ha portato come conseguenza sul paesaggio una progressiva graduale semplificazione sono stati concentrati in uno stesso campo tanti esemplari della stessa specie anzi della stessa varietà coltivati disposti in forme geometriche lungo filari questo per esempio è un esempio di peretto moderno e ancora più moderno questo esempio di peretto nel quale addirittura vengono utilizzate delle reti a protezione della produzione o contro la grandine o con altri tipi di reti per proteggere la produzione da per esempio insetti parassiti uno degli ultimi è la cimice asiatica ma nonostante questa spinta diciamo industrializzazione nelle produzioni peraltro credo inevitabile si sono conservati sul territorio anche alcuni esemplari di pero che ci arrivano da quelle che erano le coltivazioni precedenti a queste modalità di coltivazione più moderne e sono dei testimoni di quelle che erano le tradizioni frutticole passate sia perché sono quasi sempre direi varietà che non vengono più coltivate che quindi ci raccontano di quella che era la frutticoltura del passato sono piante che trovandosi per i più svariati motivi in situazioni marginali rispetto alle esigenze più recenti di produzione o rispetto a esigenze di uso del territorio per usi diversi per esempio residenziali sono state praticamente abbandonate quantomeno sotto l'aspetto produttivo sono state abbandonate e hanno potuto così sopravvivere e svilupparsi seguendo in base diciamo alla propensione di crescita della pianta non più indirizzati da potature spinte per cui queste piante sono cresciute molto hanno potuto raggiungere anche delle dimensioni ragguardevoli esistono alcuni esemplari che raggiungono anche i 20 metri di altezza naturalmente è un'altezza che ha una valenza comunque di monumentalità rispetto alla specie di cui stiamo parlando un pero non potrà mai raggiungere le altezze massime raggiungibili da un platano o da un pioppo naturalmente perché è diversa la propensione botanica della specie ma un pero che raggiunge 20 metri di altezza è sicuramente un pero da considerare monumentale il pero non è di sua natura né gigante né particolarmente longevo quindi un pero plurisecolare alto 20 metri è sicuramente un albero monumentale questo è un esempio di un pero monumentale presente nel parco di Villa Ghigi della varietà Molinaccio come si diceva una varietà antica questo è un altro esempio di pero secolare si trova a Grizzana Morandi in località Veggio anche in questo caso parliamo di una varietà antica la pera ossa in questa fotografia voi vedete accanto al pero la presenza di un uomo di una figura umana nel caso specifico è il proprietario dell'albero che si è gentilmente prestato per la fotografia se con la fotografia di un albero si vuole dare il senso delle dimensioni dell'albero stesso è molto difficile farlo se non si può inserire nell'inquadratura un qualche riferimento dimensionale conosciuto e quindi da questa foto in poi nelle foto che proporrò molto spesso sarà presente una figura umana perché dà il senso delle dimensioni maestose dell'albero una decina di anni fa circa scusate una decina di anni fa circa la regione Emilia-Romagna ha promosso una ricerca sul territorio regionale che ha interessato tutte le province da Rimini fino a Piacenza alla ricerca dei grandi alberi da frutto il risultato di questa ricerca che è stata realizzata in collaborazione con l'Associazione Patriarchi della Natura in Italia è stato pubblicato in questi due volumi che appunto sono intitolati i patriarchi da frutto dell'Emilia-Romagna a partire da questa ricerca io sono andata a cercare dicevo questa ricerca ha censito gli alberi da frutto non solamente i peri io sono andata a cercare all'interno di questa pubblicazione i dati relativi ai grandi alberi di pero e ho costruito questa tabella con i dati che ho recuperato appunto da quella ricerca come possiamo vedere sono stati censiti 20 alberi chiamiamoli patriarchi appunto come li ha chiamati la ricerca peri distribuiti in tutte le province le località sono indicate nella colonna a fianco come possiamo vedere sono tutti di varietà antiche ho riportato in tabella le dimensioni degli alberi sia dell'altezza sia della circonferenza del tronco che viene convenzionalmente misurata o mette 30 di altezza dal colletto e l'età stimata sono tutti alberi oltracentenari circa metà di questi alberi hanno oltre 200 anni per 5 di questi si stima un'età anche superiore ai 300 anni alcuni di questi alberi oltre alle caratteristiche che abbiamo fino ad ora elencato si sono rivestiti nel tempo anche di ulteriori significati per esempio alcuni di essi sono diciamo testimoni di devozione religiosa locale un esempio è questo albero il pero della Bassia di Santa Lucia di Ruffeno a Casteldaiano questo pero che è alto una ventina di metri qui ho messo l'auto come elemento dimensionale di riferimento è stato piantato a ridosso di una Bassia la cui origine risale addirittura all'800 avanti Cristo era stata realizzata lungo la via nonantolana per accogliere i pellegrini un'altra storia di pero legato alla tradizione devozionale locale è quella di un pero che non esiste più del quale però volevo raccontarvi la storia anche se molto velocemente è la storia del piradel o piccolo pero che si narra fosse presente sulla via Emilia in località Piratello che ricorda appunto nel nome questo piccolo pero nei pressi di Imola sulla via Emilia dicevo in località Piratello vicino al cimitero dove un tempo esisteva questo pero che ombreggiava un pilastrino che ospitava un'immagine della Madonna a seguito di un miracolo che si narra sia avvenuto nei pressi di questo pilastrino e di questo pero è stata costruita così narra la storia la basilica santuario della beata vergine del Piratello qualche elemento in più di questa storia lo potete trovare nel libro recentemente è stato ricostruito il pilastrino con l'immagine devozionale della Madonna il pilastrino che conteneva l'immagine antica della Madonna all'ombra di questo pero e a testimonianza del fatto che questa devozione continua e ancora in essere appunto è stato costruito questo pilastrino ed è stata ricostruita anche la situazione che riproduce diciamo il contesto di questa apparizione miracolosa di cui si narra e accanto al pilastrino è stato piantato un giovane pero della varietà volpina ed è stato anche riprodotto il pellegrino che ha avuto questa visione ecco quindi molto spesso troviamo alcuni di questi grandi alberi nei pressi di chiese di santuari li ritroviamo riprodotti per esempio in dipinti a soggetto sacro e quindi diciamo sono alberi che hanno un carattere di monumentalità ulteriore rispetto a quello che può essere il carattere naturale biologico e botanico e paesaggistico molti di questi alberi sono no veramente mi sto sbagliando alcuni di questi alberi sono oggetto di tutela sia a livello regionale che a livello nazionale sono state istituite delle tutele per gli alberi monumentali in linea generale possiamo verificare come tra tutte le piante che sono state tutelate gli alberi di pero ma così come tutti gli altri alberi da frutto sono generalmente poco rappresentati la tutela regionale è stata istituita 40 anni fa con la legge regionale 2 del 77 e attualmente sul territorio regionale esistono 550 alberi tutelati e soltanto due di questi sono peri e ve li mostro uno è il pero di Sant'Andrea che si trova nel territorio del comune di Pieve Pelago nel Modenese ed è un albero molto alto sulla ventina di metri appartiene così dicono i proprietari alla varietà baluccio che era una vecchia varietà diffusa sull'apennino modenese e l'altro pero tutelato a livello regionale è il pero che si trova a Dozza Imolese nel Bolognese sulle colline in area rurale inglobato in una siepe questo pero è meno alto del precedente però ha dimensioni del tronco ragguardevoli superiori al precedente l'altro tipo di tutela per gli alberi monumentali è una tutela più recente che è stata istituita a livello nazionale con la legge 10 del 2013 e solo a dicembre del 2017 sono usciti gli elenchi degli alberi monumentali d'Italia su tutto il territorio nazionale oltre a 3.000 piante sono state tutelate e di queste e ritorno allo stesso discorso che vi facevo prima solo 21 sono peri se puntiamo l'obiettivo sulla nostra regione in regione Emilia-Romagna esistono 104 piante tutelate come monumento nazionale di queste solamente una è un pero ed è questo albero il pero della Santona così chiamato che si trova a Lama Mocogno è un pero molto alto anch'esso della varietà Baluccio è un pero ancora molto vitale e ha anche la caratteristica di avere un valore paesaggistico notevole guardate in che posizione si trova su un versante proprio di fronte alla cima più alta dell'Apenino Toschemiliano il Monte Cimone ecco questo è il frutto dell'albero che vi ho appena fatto vedere dicevamo varietà Baluccio ho messo un punto interrogativo perché questa indicazione deriva da informazioni della proprietà ma è da verificare naturalmente recentemente stanno arrivando segnalazioni anche di altri alberi monumentali di peri monumentali che fino ad ora non sono stati considerati ai fini della monumentalità e che sono stati segnalati sia da studiosi ma anche da appassionati del territorio che diffondono e ci mandano segnalazioni su queste alberature veramente pregevoli questo è un pero della varietà Santa Maria che si trova in località Bargia Camugnano scusate questo è un altro pero che si trova sempre in comune di Camugnano in località Poranceto molto vicino a quest'altro pero anch'esso di dimensioni notevoli sempre la presenza umana ci dà l'idea della maestosità di queste piante ecco un'ultima cosa che voglio dire sugli alberi monumentali deriva dal fatto che questi alberi a volte si caricano anche di diciamo un significato identitario per le comunità in occasione se sono in qualche modo protagonisti di eventi o di storie importanti che hanno avuto delle conseguenze sulla sensibilità e sull'unità della comunità voglio fare un esempio che parte da lontano ma che arriva sul nostro territorio l'11 settembre del 2001 tutti sapete ci fu l'attentato terroristico alle Torri Gemelle durante lo sgombero delle macerie fu trovato un albero in condizioni veramente disastrose comunque con una branca con una parte di pianta ancora vitale guarda caso era proprio un pero che era stato piantato nei pressi delle Torri Gemelle negli anni 70 il ritrovamento di questa pianta ancora viva naturalmente ha coagulato su di sé i sentimenti di tutta una comunità che doveva ripartire e trovare la forza per credere per il futuro e quindi c'è stata una grande aspettativa di tutta la comunità sul destino di questa pianta che è stata prelevata curata per nove anni in un vivaio e nel 2010 è stata riposizionata ora arriviamo al nostro territorio quest'anno nel 2020 a conclusione delle celebrazioni del 2 agosto qui a Bologna un'altra città che ha dovuto subire un attacco terroristico che ha colpito molto tutta la comunità le celebrazioni si sono concluse con la posa di mora di un piccolo albero di pero che è stato donato dalla città di New York a Bologna proprio in una sorta di pseudo gemellaggio non so se vogliamo chiamarlo così comunque in una sorta di condivisione di un evento terroristico che ha gravato su tutte le comunità quella americana e la nostra e quindi diciamo questo alberello che è stato un piccolo albero che è stato posto a dimora qui a Bologna si è caricato di un significato importantissimo appunto come diciamo come elemento identitario per la nostra collettività è stato piantato in un giardino in centro a Bologna che già era stato dedicato all'11 settembre ecco io diciamo per quello che riguarda il tema degli alberi monumentali avrei concluso chiedo alla regia se ho ancora del tempo se ho consumato tutto il tempo che aveva a disposizione per trattare qualche argomento Rossella hai cinque minuti buoni va bene cercherò di fare molto in fretta allora volevo dire che il mio lavoro è questo gli alberi monumentali e il patrimonio naturale quando è stato progettato il libro mi è stato chiesto di occuparmi anche dell'immaginario di scrivere un pezzo anche sull'immaginario storico letterario e sulle tradizioni gastronomiche molto onestamente non sono una specialista di queste materie ma il tema era molto intrigante molto interessante ho accettato con lo spirito di fare una ricerca naturalmente e di riportare come ho fatto nel libro il risultato del mio lavoro di ricerca e sperimentazione su questo tema da agronomo non avevo mai considerato le pere sotto un aspetto culturale in realtà mi si è aperto un mondo perché ho scoperto che il frutto della pera ha ispirato a tantissimi livelli nell'arte e nella letteratura l'immaginario umano e naturalmente tutti i risvolti gastronomici che sono palesi sono interessantissimi allora butto qualche pillola l'ho chiamato anche nel titolo pillole perché non posso fare un lavoro organico non è una materia di cui sono esperta però ho trovato delle cose interessanti che mi piaceva proporre molto velocemente innanzitutto interessante il discorso della forma della pera qui ho riportato una foto della varietà scipiona la forma della pera è un'entità un po' strana non è regolare intanto abbiamo visto dalla esposizione dei relatori che mi hanno preceduto quante forme diverse colorazioni e forme diverse può assumere il frutto della pera a seconda delle varietà e comunque è una forma abbastanza irregolare asimmetrica piena di curve e questa forma è stata associata fin dall'antichità al corpo femminile per cui il frutto della pera era un frutto sacro fin dagli antichi greci prima la luna poi ad era ad afrodite e fino a tempi più recenti ancora nel secolo scorso in alcune zone la pera era ancora associata al genere femminile per esempio in un cantone dell'Argovia ho trovato questa notizia quando nasceva una bambina veniva piantato un albero di pero melo per i bambini ma per le bambine un albero di pero il pero l'albero di pero è la forma della pera e viene poi frequentemente rappresentata in toponomastica e in araldica qui vado molto velocemente qui è uno stemma di un comune sempre appunto del cantone dell'Argovia ma anche in Italia abbiamo alcuni esempi questo è il comune di Pereto nella regione Abruzzo e poi in tanti stemmi araldici in tanti denominazioni di vie località spesso ritorna la denominazione del pero a testimonianza di un passato produttivo importante per quelle zone si potrebbero fare tante citazioni e qui devo stringere naturalmente vado velocemente citazioni artistiche ma su questo aspetto la collega che mi seguirà farà un approfondimento molto interessante il frutto della pera viene recuperato in tanti detti e proverbi popolari per rappresentare situazioni dell'esperienza popolare e non sedimentata diciamo negli anni per rappresentare delle situazioni di difficoltà della vita ed eventuali furbizie per risolverle e uscirne mi limito ancora a due flash nel settecento sul piano diciamo del consumo del frutto di pera c'era un uso molto di moda che era quello del consumo delle pere da passeggio allora le pere venivano cotte caramellate infilate in uno stecco e vendute da un venditore ambulante che era il pera cottaro che faceva proprio era proprio specializzato in questa attività e doveva essere una figura molto simile a questa che vi sto facendo vedere e che è il venditore di mele pere cotte e che è un'altra di quelle incisioni di Giuseppe Maria Mitelli tratte dai mestieri di Annibale Carracci che rappresentava appunto i mestieri ambulanti i mestieri senza bottega uno l'abbiamo già visto è nella copertina è stato scelto per la copertina del libro e questo era il pera cottaro un'altra curiosità è quella del consumo che si faceva sempre nel settecento della pera limone che era un'antica varietà bolognese e questo utilizzo ci viene documentato nella pomona italiana di Gallesio che è già stata citata dal professore San Savini questa pera è una buccia molto dura pigiando al giusto grado di maturazione del frutto pigiando sulla buccia la polpa si disfava si lequifaceva e togliendo il picciolo la pera poteva essere praticamente bevuta come un succo era molto apprezzata e qui siamo arrivati decisamente al discorso della tradizione gastronomica sul quale volo allora ho attinto ho fatto una selezione di ricette da diversi ricettari sia antichi che moderni andando a cercare naturalmente le ricette a base di pere e ho cercato di costruire e proposto nel libro appunto un menu in cui tutte le portate sono rappresentate da ricette a base di pera qui abbiamo il semplicissimo formaggio con le pere diciamo arricchito esteticamente da qualche mirtile pomodorino per renderlo anche bello qui abbiamo addirittura un secondo di carne fatto con le pere il galletto al marsala e pera mora che è un'antica pera che già c'è stata illustrata precedentemente tipica della collina romagnola pere sott'aceto come contorno abbiamo un dolce sono questi ravioli farciti col savurette il savurette è una mostarda che viene prodotta nell'apennino reggiano un'antichissima ricetta che richiede un procedimento lunghissimo 26 ore di cottura che è stata recuperata da un consorzio locale e che viene riproposta sul mercato questa è una preparazione di pera volpina cotta nel vino e con le spezie come già è stato anticipato in una precedente relazione preparata per essere conservata e consumata durante l'inverno e chiudo la mia relazione con questa immagine di distillati di pera William prodotti in varie zone non solo italiane in Italia abbiamo questo prodotto tipico prodotto a Tramini in provincia di Bolzano con la pera in bottiglia mi scuso del tempo forse per il quale ho sforato e vi ringrazio tanto per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione